Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani e oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, quindi a partire da domenica 25 luglio a domenica 1 agosto 2021. Sarà una lettura molto particolare, utilizzeremo le carte degli unicorni, le carte delle fatte e le carte degli esseri della natura. Ma ci andremo comunque a sintonizzare con la frequenza angelica dell'arcangelo Michele per chiedere massima protezione, guida e assistenza. Volevo ricordarvi, per ricevere le notifiche sulle mie letture e anche quando pubblico video di informazione sugli angeli, sulla legge dell'attrazione, sulla guarigione e così via, vi consiglio di iscrivervi al canale e di schiacciare sopra la campanella così arriveranno le notifiche, va bene? Ok, iniziamo con la nostra lettura angelica. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, padre e madre. Invoco i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, arcangelo Michele, maestro Gesù. Invoco Maria Regina Celeste, tutti gli angeli e gli esseri di luce che operano in comunione di intenti con l'arcangelo Michele, anche nel regno delle fate e degli esseri della natura. Arcangelo Michele, ti chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Con amore, arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabli all'oscurità, dove possa entrare solo la luce. È l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia ora, per sempre e per l'eternità. Andiamo a mischiare le carte, andremo a prendere tre carte da ogni singolo mazzo. Prima carta, passione, la carta della passione, ecco qua, c'è uscita un'altra carta, questione di vite passate, discernimento anime infinite. Bene, molto interessanti le carte degli unicorni, ora vediamo le carte delle fatte, abbiamo tentazione, e sì, qua ha a che vedere anche con relazioni sentimentali, quindi praticamente speranza, ok? Vediamo poi cosa vuole dire nello specifico. uscire all'aperto, vediamo il terzo mazzo, ecco ne sono cadute due, quindi faranno parte della lettura, anzi ne sono cadute quattro, facciamo che le prendiamo proprio per la lettura, sono cadute tutte insieme. Allora, anticipazione, abbiamo la carta della natura, assolutamente, avvertimento, e poi la carta della guarigione. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica, prendiamo anche una carta dal mazzo di Luis Rey, queste sono le carte dei pensieri positivi, del potere dei pensieri di Luis Rey, stampate da MyLife in Italia. Prendiamo il messaggio, sono in pace con la mia età. Ok, vediamo un po', iniziamo la nostra lettura. Gli angeli, gli esseri della natura, gli unicorni, l'arcangelo Michele, ci stanno invitando a mettere passione in ciò che facciamo, o fare ciò che ci dà passione. Abbiamo bisogno di elevare la nostra energia, le nostre vibrazioni e le nostre frequenze. Veramente, diciamo che fare le cose con passione, con gioia, va ad elevare la nostra energia, le nostre vibrazioni e le nostre frequenze, noi abbiamo bisogno veramente di portare più gioia nella nostra vita. Quindi alle volte dobbiamo anche lasciare andare le cose che non ci piacciono, per dedicarci a cose che ci danno gioia, che possa essere la pittura, che possa essere uscire all'aria aperta, a passeggiare, fare una pedalata in bicicletta, che possa essere scrivere un libro, che possa essere danzare, va bene, che possa essere cantare, che possa essere qualsiasi cosa che fa battere il tuo cuore e che porta gioia, amore e passione nella tua vita. L'arcangelo Michele sta dicendo di lasciare andare il karma legato alle vite precedenti e per questo l'invito da parte degli angeli dell'arcangelo Michele è anche quello di recitare il cosiddetto processo di liberazione. Voi potete trovare questa preghiera molto potente che va a sciogliere i voti, gli accordi, i patti, tutto ciò che è opposto alla gioia e alla passione che vi sta limitando, vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere. Ecco, con questa preghiera voi potete veramente liberarvi da tutto ciò che a livello conscio, subconscio, inconscio, vi sta impedendo di essere nella gioia, nella passione, nell'allegria, nella spensieratezza, nella creatività. Il processo di liberazione lo potete trovare nel mio sito connessioneangelica.com, è completamente gratuito, lo ritrovate infatti nelle risorse gratuite, lo potete scaricare in formato PDF, in formato MB3, come preferite, va bene. Diciamo che assolutamente questa carta va a confermare che tu sei un'anima antica, va anche a confermare che quella persona per cui hai posto una domanda assolutamente l'hai già incontratta in una vita precedente, ecco perché hai questa familiarità con quest'anima, però in questa vita gli angeli e l'arcangelo Michele dice c'è, come dire, il cosiddetto libero arbitrio, il fatto che c'è familiarità nell'anima non è necessariamente una risposta, non è detto che questa persona sia la persona per te per questa vita, va bene. Hai bisogno più che altro di sciogliere il karma, comunque in queste relazioni che tu stai vivendo, va bene. Quindi assolutamente liberati dalle vite passate, liberati dal dolore, dalla sofferenza, liberati da tutto ciò che ti sta impedendo di essere felice e soprattutto gli angeli, gli unicorni e gli esseri di luce ti stanno dicendo usa il tuo discernimento in questa situazione, non tutto è come sembra, dice. Quindi fai un po' di attenzione a questa persona o a queste persone o a questo ambiente lavorativo che ti sta circondando in quanto non è tutto chiaro, non è tutto alla luce del sole, va bene. Tu dentro di te hai assolutamente le risposte, mantieni anche i tuoi segreti segreti, non rivelare le cose che hai dentro a tutti, parlare solo con le persone di fiducia, perché c'è qualcuno che in questo momento non è pienamente sincero o sincera con te, va bene. E' anche uscita la carta della tentazione, diciamo che alcuni di voi magari in questo momento stanno avendo delle abitudini un po' sbagliate, potrebbe essere un'alimentazione sbagliata, potrebbe essere fumare troppe sigarette, ok. Oppure c'è qualcosa che vi sta facendo sentire in colpa, nel senso magari avete fatto qualcosa che non volevate fare o avete detto ho pensato quello che non volevate dire o pensare, va bene. Diciamo che le fatte in questo momento ti stanno dicendo di elevarti, di lasciare andare le tentazioni, di lasciare andare il senso di colpa, di perdonarti, però di non cadere nelle basse frequenze, di essere sempre in allineamento all'amore, di essere… quando tu sei nell'amore non fare questi errori, perché poi te ne puoi tentire, va bene. Cerca di puntare in alto nei tuoi desideri, cerca di ambire ad avere successo in quello che desideri, che possa essere il lavoro, possa essere le amicizie, una relazione, cerca di sognare in grande. Le fatte ti stanno proprio dicendo di sognare in grande, va bene. Diciamo che è anche rimanere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Hai bisogno però un po' di uscire dalla mente, sei troppo caotico, sei troppo caotica, e quindi ti sembra che in questo momento stia andando tutto male. Invece non è così, hai solo bisogno di staccare dalla solità routine, da queste basse frequenze, esci un pochino di più nella natura. Diciamo che lo dicono sia le fatte, ma anche gli esseri della natura, ti stanno invitando a uscire all'aria aperta, veramente hai bisogno di stare in pace nella natura, veramente anche se hai un solo giardino, vai in giardino, passa del tempo, leggi un libro, medita, prega, fatti delle passeggiate, respira aria pura e aria fresca, e ricordati che praticamente tu sei esattamente nel posto giusto, nel momento giusto, esattamente dove devi essere. Se in questo momento ti sembra che tutto sta andando male, chiedi più aiuto, guida e assistenza a Dio, agli angeli e all'arcangelo, Michele stai tranquillo, stai tranquilla, che piano piano le cose andranno bene. Quante volte gli angeli ti hanno detto di uscire nella natura? Quante volte hai sentito quell'istinto e poi è subentrata la paura, i blocchi? Ecco, chiedi guida e assistenza agli angeli e all'arcangelo. Michele stai tranquillo, stai tranquilla, c'è un senso di anticipazione, sta arrivando qualcosa di importante nella tua vita, sta arrivando qualcosa di meraviglioso nella tua vita, sta arrivando qualcosa che ti sorprenderà, va bene? Quindi rimani apriti alle benedizioni, benedizioni alle porte, questa è una cosa molto molto bella, va bene? Diciamo che è uscita anche la carta che si lega alla lettura precedente, ossia discernimento, se hai sentito dentro di te che c'è qualcosa legato a quella persona, a quelle persone che non va, questa carta va a confermare che assolutamente ti devi fidare di quelle sensazioni, assolutamente quelle sensazioni sono la guida divina, va bene? Non aprire te stesso completamente, tieni i segreti per te, tieni le tue idee per te e cerca di rimanere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi e allontana le persone che in questo momento ti potrebbero smontare o potrebbero mettere dei pensieri negativi nei tuoi progetti, va bene? C'è un momento di grande guarigione alle porte, quindi guarigione per te, guarigione anche nelle relazioni, va bene? Quindi sta arrivando qualcosa di positivo, ma laddove tu hai delle percezioni che ti rendi conto che non è il momento, che i tempi non sono maturi, che quella persona non ti puoi fidare di quella persona, fiditi di te, non giudicare, non c'è niente di male, allontanati, vai nella direzione giusta perché grandi cose stanno arrivando, c'è un senso di anticipazione perché stanno arrivando miracoli infiniti, benedizioni infinite e guarigione nella tua vita, ok? Alcuni di voi, alcune di voi hanno bisogno di ricevere guarigione, di concentrarsi su una salute perfetta, di fare un'alimentazione di un certo tipo, di fare più sport, di bere più acqua, di mangiare più frutta e verdura, va bene? Ma anche di rivolgersi eventualmente a un guaritore olistico che vi può aiutare per questa situazione, va bene? Benissimo, tu stai proprio, se hai scelto la strada dell'autoguarigione, del tuo riallineamento spirituale, questa carta va a confermare che sei nel cammino giusto, la via dell'autoguarigione, la via del riallineamento spirituale, la via giusta per te in questo momento. Bene, sono in pace con la mia età, questa carta è molto bella perché molte persone troppo giovani fanno male perché sono troppo giovani, molte persone avanti con l'età si sentono ormai arrivate, altre che magari sono sempre giovani, però magari hanno superato i 30-40 anni, si sentono già in un'età avanzata, non c'è cosa più sbagliata, il cammino spirituale, il risveglio spirituale dell'anima non ha età, se tu ti senti vivo, se tu ti senti viva, se tu ti senti piena di gioia, hai voglia di vivere, hai voglia di fare, voglia di creare, non esiste l'età, non esistono blocchi, non esistono, non lascia andare queste paure che non servono a niente, ogni età porta con sé gioie ed esperienze speciali, ho sempre l'età giusta per il momento in cui mi trovo nella vita, quante persone ci sono che hanno intrapreso una carriera anche all'età di 50 e di 60 anni, quindi per piacere, se senti quella chiamata, se senti che hai voglia di cambiare la tua vita, ascolta il tuo cuore, perché il tuo cuore ti sta guidando nella direzione giusta, è la guida divina che ti sta parlando, ok, bene, io per questa lettura ho concluso, volevo ricordarvi che mi occupo di fare delle letture angeliche anche come in privato, sia con l'utilizzo delle carte, ma anche come connessione diretta, mi occupo anche di facilitare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce sulle altre persone, di persona se vi trovate a Valguero o in Sardegna o a distanza, va bene, facilito anche la connessione al sé superiore, ma questa va fatta di persona, mi occupo anche di Logo Sealing, un lavoro di coaching molto potente, che vi può aiutare a eliminare le paure, i blocchi, per liberarvi da tutti quei sistemi di credenze limitanti, da tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, di essere in pace, in armonia con voi stessi e di agire anche nella direzione dei vostri sogni, con Logo Sealing è anche possibile riprogrammarsi per far sì che si possano manifestare i propri sogni e i propri obiettivi, quindi allenare il subconscio a manifestare secondo la nostra volontà dell'anima, del cuore, ma anche la nostra volontà personale, un lavoro di riallineamento. Per chi è interessato, volevo informarvi che la prima settimana di ottobre, fammi vedere un attimino, scusate perché dovrebbe essere, no, la seconda settimana di ottobre, il 9 e il 10 di ottobre, ci sarà il nuovo webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce. Per i primi che si iscrivono ci sarà una promozione super speciale, ok? Bene, io vi saluto, vi voglio bene, ci sentiamo presto, alla prossima settimana. Un bacione a tutti, ciao ciao!